Laura Freddi Laura Freddi gravidanza, quando partorisce e nome della figlia Gossip News Ultime notizie Laura Freddi incinta, lex di nona e la RAI mostra il pancione al sesto mese di gravidanza. Gossip, Laura Freddi incinta della prima figlia mostra il pancione al sesto mese di gravidanza. Il nome della figlia? Lex Belfina è in attesa della nascita della sua primogenita. Figlio tanto atteso dopo una relazione di anni con Leonardo D'Amico. E così Laura Freddi all'età di 45 anni corona finalmente il suo sogno. Ovviamente sprizza gioia per il lieto evento che a breve la renderà mamma. Immediati messaggi di affetto da parte dei numerosi fan su social, mentre una timida Laura Freddi mostra il pancione. Gossip News, Laura Freddi quando partorisce? Il nome della figlia?. Gossip, superati i 40 anni Laura Freddi cominciava a sentire la mancanza di essere mamma. D'Altronde è legata da sei anni con D'Amico. Lui è un fisioterapista, e la loro relazione è nata durante un incontro di Beache Volley. L'annuncio della gravidanza avviene dalla diretta interessata che sui social posta un suo scatto sulla spiaggia. Indossando un semplice vestitino nero, mostra il suo profilo che comincia ad arrotondarsi. . Punta il dito verso il sole che offre uno splendido scenario del tramonto. Gossip, commenta la foto con una lunga frase, non ho parole per ringraziare tutti voi che, in questi giorni per me speciali, mi state dimostrando così tanto affetto. . Poi aggiunge, il mio sogno sta per realizzarsi e sarà la mia bimba. La mia pancetta inizia a farsi vedere e ora tocco il sole con un dito. Giunta al sesto mese di gravidanza, la biondissima showgirl avrà presto una bimba. . È già partito il toto nome della figlia. . Come si chiamerà? Purtroppo ancora non è stato reso noto dai diretti interessati né sui social, né attraverso recenti interviste. . Notizie gossip, Laura Freddi quasi mamma al tennis and friends 2017. . Gossip, di recente la bionda showgirl di Nonellara è apparsa al Foro Italico di Roma in occasione della campagna di prevenzione tennis and friends 2017. Immancabile la presenza del ministro Beatrice Lorenzini e grande affluenza di VIP, ma tutte le attenzioni si concentrano sulla showgirl. . Laura Freddi posta una foto commentando, grazie alle collezioni di Angela per la collana che mi hanno regalato al tennis and friends. . I fan scrivono, sei sempre la stessa non cambi mai, non ti vedo dal 1987 e sei sempre uguale, il ritratto della bellezza, mi fa piacere che finalmente hai esaudito il tuo desiderio ti faccio tanti auguri. . Vestita in modo casual con jeans shirt e giacchino di pelle, Laura ha catturato lo sguardo dei presenti soprattutto per il pancione. . Appare in compagnia della nipote, di Eva Grimaldi e della sua compagna Imma Battaglia che, sorridenti, posano per i fotografi. . Al suo fianco altri personaggi del mondo dello spettacolo tra cui l'ex fidanzato Paolo Bonolis che le tocca il pancione, Fiorello, Maria De Filippi e Lorella Cuccarini. . Tutti dimostrano un grande entusiasmo per la gravidanza di Laura Freddi che a gennaio diventerà mamma e avrà finalmente tra le braccia la sua bambina, tanto desiderata. . 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